Ciao, benvenuti in uno spazio Mio Podcasting Mio Podcasting, un contenuto audio a cadenza mensile Questa è la stagione 3 In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog Fate riferimento quindi a Mio Radar, Mia Fantascienza e Palio Contatto Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Mio Podcasting In questa puntata andremo a parlare della seconda parte dell'episodio precedente che era troppo lungo e quindi l'ho dovuto dividere in due podcast Nella puntata precedente abbiamo parlato di Amazing Stories e di Fate In questa seconda parte andremo a parlare invece di Other Worlds of Science Fiction In questa seconda parte del podcast invece andremo a ragionare di Other Worlds Other Worlds, Science Fiction, Universe Science Fiction, Flying Saucer from the Other Worlds furono tre riviste dell'editore Raymond Appalmer Other Worlds fu lanciata nel novembre del 1949 dalla Palmer's Clark Publication e rimase in stampa per quattro anni sino al 1953 Poi praticamente dal 1953 al 1955 Palmer divenne socio di un uomo d'affari di Chicago per creare la Bell Publication e stampò dal giugno del 1953 Universe Science Fiction Poi Palmer lanciò una seconda rivista Science Stories per sottrarse alle difficoltà finanziarie della Clark Publication Nel 1955 Palmer perse interesse nella rivista Science Stories quanto in Universe Science Fiction fondò un'altra società comprò il brand Other Worlds in modo che la sua nuova rivista nominata nello stesso modo fosse la naturale continuazione della precedente che però era prima relativa ad un'altra gestione Nel 1957 Palmer cambiò totalmente la linea editoriale a Other Worlds trasformandola in Flying Saucer from Other Worlds una rivista d'ufologia e non di fantascienza la testata sopravvisse sino a giuno del 1976 con il nome Mysteries of the Space Space le difficoltà finanziarie delle testate e i cambi dei editori di proprietà dimostrano che i magazine furono di influenza minoritaria rispetto alle storiche pulp mags come Amazing Stories If Words of Science Fiction di Hugo Gersbach poi gestite dalla Ziff Deffis Publishing mentre If era sempre rimase di proprietà della Queen Publishing Tuttavia, essendo stata Flying Saucer from Other Worlds una delle prime riviste tematiche sull'ufologia questa lunga bloggata si provvederà a dare un'occhiata paleofologica alle tre riviste per valutare se nel passato nella sua mutata linea editoriale vi possono essere tracce d'anomalie storiche o rappresentazioni genuine di tecnologia aliena oppure se le tre riviste subirono solo banalmente l'influenza dominante della storica Wonder Stories Amazing Stories e If Words of Science Fiction ed Astounding Stories Other Words of Science Fiction dal 1951 al 1953 Le riviste stampate dalla Clark Publishing il magazine appareve come un clone di Amazing Stories del 1950 sia per contenuti quanto per copertine e retro copertine per disegni interni ad apertura dei racconti Le fabule di fantascienza pubblicati da Other Worlds of Science Fiction sono in ridotta misura remake e remix di narrazioni già pubblicate da Amazing Stories anche se nella stragrande maggioranza ci sono tanti racconti inediti Allora La prima rappresentazione utile di un disco volante fu del 1951 ad apertura del racconto The Fall of Lemuria di R.S. Schever con un'iconografia di un disco volante identica a quanto già rappresentato in Amazing Stories del luglio del 1943 Nel 1950 in marzo in Other Words svettò in copertina un oggetto quasi identico a quanto era già stato pubblicato in Amazing Stories in febbraio del 1948 Nel 1951 in giugno Other Words of Science Fiction pagina 78 propone ad illustrazione del racconto di Mr. Yellow Jacket di Ray Palmer illustratore illustrazione fatta per mano dal disegnatore A.G. McCoolley in cui disegnò un UFO a forma di lampadario a gas il classico UFO in stile Adamski Nel 1951 di ottobre il magazine Other Words of Science Fiction pubblicò la novella in due episodi intitolata I Flew in a Flame Saucer del capitano A.V.G. ossia l'autore era Ray Palmer il racconto di fantascienza aveva ambientazione ufologica contemporanea al 1950 che si può considerare il preludio della svolta editoriale del 1957 quando la rivista mutò in Flying Saucer from Other Words il disegno a corredo del racconto appare in bianco e nero di bassa qualità assai approssimativo ma coerente con un Avrocar con tanto di elica intubata Nel 1952 nel gennaio la rivista Other Words pubblicò il racconto e articolo The Real Flying Saucer di Kenneth Arnold a corredo dell'articolo un UFO discoidale molto simile all'iconografia pubblicata in copertina da Amazing Stories del novembre del 1929 anche in questo caso la rivista di fantascienza iniziò quindi la rivista di fantascienza Other Words o Science Fiction iniziò a contaminarsi con l'ufologia anche se a quel tempo nel 1952 la maggioranza dei contenuti di Other Words era ancora composta da fantascienza classica nel 1952 in giugno il magazine Other Words mise in prima pagina una piramide egizia nello spazio a supporto di un non ben identificato racconto di fantascienza interno nel 1952 in marzo in copertina di Other Words campeggiarono in prima pagina degli oggetti volanti identici agli UFO dei Siloni tali oggetti popoleranno la serie olivodiana del galattica del 1970 l'oggetto discodale ha il timone verticale e ricordava da vicino il futuro LRV l'antico re-entry vehicle che sarà ingegnerizzato come progetto segreto nel 1962 e poi presente nel magazine anche la raffigurazione di un velivolo discodale ad elica intubata identico ad un Moller del 1980 il magazine nel periodo storico analizzato si valuta che non presenti anomalie significative in Universe Science Fiction del DAL 1953 al 1955 la rivista fu stampata dalla Bell Publication e era sostanzialmente un magazine di fantascienza al cui interno spiccavano illustrazioni a corredo dei racconti in formato bicolore mentre su Amazing Story ancora dominava il bianco e nero tuttavia non sono presenti le retro copertine molto rapidamente però negli Universe Science Fiction tra il 1953 e il 1955 sparirono completamente la bicromaticità delle immagini per dominare poi il bianco e il nero nelle 10 riviste analizzate la prima raffigurazione utile di un oggetto discoidale appare in settembre del 1953 in Universe Science Fiction con un'immagine bicromatica del profilo frontale di un Voight V-173 privo però del carrello fisso per l'atterraggio nel gennaio del 1955 il magazine Universe Science Fiction propose una copertina in bianco e nero segno evidente dei gravi problemi finanziari del magazine con Babbo Natale che era a bordo di un discoidale il cui shape però era identico a quello che era proposto che era stato proposto in copertina dal libro del maggiore Keiho e pubblicato nel 1950 il magazine nel periodo storico analizzato dal 1953 al 1955 in Universe Science Fiction non presenta anomalie significative generale giungiamo quindi nel cambio di linea editoriale da Other Worlds a Flying Saucer from Other Worlds dal 1957 al 1964 i primi numeri del magazine del 1957 a gestione Palmer erano primestrali posizionavano la rivista Other Worlds of Science Fiction in un clone di Amazing Stories dopo poco tempo la prima pagina di copertina ripresa ad essere colorata e non più monocromatica tornarono anche le retro copertine colorate tuttavia scomparvero per vari numeri i disegni in apertura e o in corredo dei racconti di fantascienza i disegni dalla rivista poi tornarono in bianco e nero nel numero di novembre del 1955 con rappresentazioni curate la prima raffigurazione utile di un disco volante in Worlds of Science Fiction e la nuova gestione di Ray Palmer apparve in novembre del 1956 e a pagina 8 dentro ad un disegno in apertura del racconto Reluctant Ave di Evelyn Martin l'iconografia del disco volante era molto simile alla copertina di Amazing Stories del novembre del 1929 quindi in questa fase nel periodo storia evidenziato non ci sono alcune non ci sono proprio anomalie dentro Flying Saucer From Other Worlds dal 1957 al 1964 la rivista divenne ufologica mentre solo nell'uno del 1957 tornò ad essere temporaneamente una rivista di fantascienza poi nei numeri successivi Flying Saucer From Other Worlds del dicembre del 1958 il magazine rimase una rivista ufologica essendo una rivista ufologica ovviamente verrà analizzata come tale valutando i contenuti proposti alla luce del debunking sui casi storici ormai noti quanto delle razionali conoscenze paleofologiche elaborate negli ultimi che cosa si può dire circa Flying Saucer allora iconografia delle Flying Saucer quindi Flying Saucer From Other Worlds sintesi ufologica dal 1957 al 1961 l'iconografia delle Flying Saucer è presente con gli shape dei Foo 5 Hertz che però scomparvero emersero preponderante lo shape delle lampade metalliche a gas di Adamski quanto l'iconografia di dischi volanti metallici dotati di alica intubata oltre alla presenza massiccia di misteriose Flying Saucer tubolari silenziose l'iconografia delle navi spaziali queste le navi spaziali aliene erano tutte rigorosamente a forma di disco volante mentre le astronavi terrestri dovevano avere per forza lo shape razziforme di derivazione nazi V1 V2 tecnologia delle Flying Saucer la levitazione magnetica era la spiegazione più gettonata oppure le eliche intubate la versione terrestre del disco volante tuttavia tali veliboli erano capaci di fornire spinte supersoniche al nuovo prototipo prototipo americano questo era quello che si raccontava la produzione dei dischi alieni era nucleare mentre quella dei dischi terrestri era invece convenzionale gli alieni non disponevano di droni non disponevano di teletrasporto gli alieni atterravano sulla terra e poi facevano ricognizioni di persona con tante testimonianze in varie parti del nord america che furono pubblicate dalla rivista gradualmente le speculazioni astratte degli ufologi fecero migrare la tecnologia aliena in una fantomatica tecnologia fantastica e futuribile che però ancora non sarebbe migrata in velocità superluminali e o viaggi nel tempo e o motori ftl faster than light con portali nell'iperspazio la natura del fenomeno delle flying saucer il fenomeno reale e non era misteria di massa la natura delle flying saucer era ibrida ossia aliena e coverappata dall'USAF e dal governo USA per evitare di creare panico nella società umana l'altra parte del fenomeno delle flying source erano causate da velivoli segreti militari ma dei in USA di nuovissima concezione quindi erano velivoli terrestri insulsi antropologi verso la rivista vantarono scoop giornalistici con comunicazioni radio facchettate avute con alieni di Marte mentre poi proliferarono e si diffusero le cazzate tonanti e i dischi volanti a lampada a gas da Damski basi di partenza delle flying saucer era il pianeta Marte quanto le basi militari USAF oppure basi alieni sotterranee sulla terra intenzioni dei piloti delle flying saucer i dischi volanti alieni erano velivi da ricognizione ma ben presto si trasformarono in ricognizioni aliene in forze per scopi ostili in sostegno ad una possibile e futura invasione aliena della terra questo era bello che andavamo a raccontare la rivista radici del fenomeno delle flying saucer alcuni ufolici dissero che gli alieni controllavano l'umanità da millenni sumeri egizi ed antiche civiltà eccetera altri ufolici citarono gli eventi anomali dei libri dei Charles Ford per dimostrare che il fenomeno delle flying saucer aveva radici storiche che partivano almeno dal 1800 si incominciò poi a guardare la bibbia e dalle narrazioni bibliche come prova di una presenza aliena nel controllare l'umanità da qui poi scaturì quello il libro Chariots of the God però solo negli anni 70 fisiologia dei piloti delle flying saucer l'iconografia aliena era quella di sembianze umane enormi quanto quella di una fisiologia anana in berbe macrocefola molto simile all'iconografia di H.D. Wells del XIX secolo elementi di isteria di massa sono evidenti perché non sono mai citate nella rivista il flying saucer from other worlds i velivoli sperimentali a reazione nazisti della seconda guerra mondiale quanto le V-1 missili da crociera quanto le V-2 le protogenesi dei missili intercontinentali non ci furono mai segni a possibili evoluzioni per forme e dimensioni dei dirigibili dello snavi in altri veicoli sono tuttavia assenti i deliri di rapimenti alieni in massa sulla popolazione terrestre curiosità in flying saucer of the other worlds nel giugno del 1960 si riferì a pagina 20 che la stazione radio canadese CK-CY aveva diffuso la notizia che una flying saucer inclusi i suoi sei occupanti erano stati catturati da militari italiani il 9 novembre del 1960 a 70 km a nord di Roma alle 21 in quanto l'astronave era atterrata vicina a una base militare italiana vabbè quanto ne raccontavano da notare bene però che non è mai citato il termine UFO Unidentified Flying Object o Unknown Flying Object ma sempre e soltanto il termine Flying Saucer per indicare gli odierni UFO quest'ultimo il termine UFO è un termine molto forte che non è mai stato scalzato dalle cazzate di sigle successive in OVNI Ray e quant'altro allora giungiamo quindi alle fila finali sia per motivi di scommesse editoriale in un mercato editoriale competitivo sia per la linea editoriale la rivista Flying Saucer from the other worlds ebbe un taglio super complottista ma ancora scevro dai deliri di adduzioni alieni massive ai danni della popolazione della Terra le iconografie degli alieni e l'iscei Pufo Genui quanto delle stime tecnologiche dei mezzi alieni a base di partenza dei navi astrali alieni furono sicuramente cannate dalle riviste ufologiche del tempo a causa della scarsa razionalità e nulla conoscenza degli ufologi del tempo quanto dell'assenza di internet che oggi con pochi click permette di accedere a tutto lo scivile umano non oggetto di etichetta top secret è certamente vero che gli alieni studiano e monitorano le evoluzioni sociotecnologiche della Terra ma non per regioni militari bensì di studio scientifico sulla cultura umana è storicamente corretto la presenza di cover up alla fine della seconda guerra mondiale gli alleati americani inglesi e canadesi in quanto detentori di una possente forza aerea si erano accorti nella fenomenologia Foo Fighter riportata dai piloti dell'epoca che questi oggetti non erano mezzi nazi fascioni ponici quindi dovevano essere mezzi extraterrestri in ricognizione sulla Terra la nascente USAF farò poi il progetto Sine Grudge Blue Book e è accertato quindi il cover up un posto per regioni di sicurezza nazionale sul fenomeno UFO infatti la Francia fu lasciata fuori dalla scoperta quando però ebbe accorgersene fondò il Japan e mantenne per vari decenni una posizione aperta sul fenomeno degli UFO come velivoli extraterrestri è storicamente vero poi che il governo americano finanziò nel 1950 il produttivo canadese dell'Avrocar come mezzo VTOL perché le industrie americane dell'epoca erano focalizzate sulla velocità supersonica degli aerei e sullo sviluppo degli aerogiri in elicotteri anche se non è ancora nota alla storia pubblica dell'aviazione il successo tecnico del velivoli discodali VTOL stimabili come performance di quota e velocità probabilmente non troppo diversi dai un P51 Mustang i successivi apparati tattici delle flying platform quanto dei velivoli molle a stabilità rilassata dimostrano che in vari hangar NATO è certo che esistano velivoli a delica intubata a forma di disco volante con capacità VTOL però con scarsa autonomia tattica è tuttavia assente in flying saucer from other wars ogni riferimento al progetto paperclip dell'Oto SS quello che poi divenne la CIA sui progetti tecnologici e scienziati nazisti e tutto fu completamente ignorato dalla rivista gli eventuali sviluppi americani di ricerca applicata sui missili da cruciera e balistici per la notte di ricerca